I finanziari del Comando Provinciale di Reggio Calabria, a seguito di un controllo ad un esercizio commerciale, hanno sequestrato quasi due quintali e mezzo di fuochi d'artificio, per la cui vendita era prevista una specifica autorizzazione e in più erano conservati in locali non conformi. Inoltre, i finanziari della Compagnia di Palmi hanno sequestrato 600 luminari e priva i dei requisiti prescritti per la loro commercializzazione. I due sequestri rientrano nell'ambito del rafforzamento del dispositivo di vigilanza in materia di sicurezza di prodotti e il contrasto alla fabbricazione e al commercio illegale di fuochi pirotecnici disposti in prossimità delle vacanze natalizie. I due responsabili degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Palmi per detenzione e commercio abusivo e omessa denuncia all'autorità di materiale esplodente.